Che cosa intende fare il Comune di Cartoceto? Il Comune di Cartoceto ha indietto proprio un incontro, proprio ieri, con la associazione di categoria del mondo agricolo per evitare, per cercare di combattere questo nuovo balzello che cade nuovamente sulla testa degli italiani. Coloro che hanno un terreno agricolo dovranno pagare l'IMU agricola. Un costo che in questo momento per le aziende locali è insostenibile. Vi siete appellati anche a Lanci? Certamente, abbiamo cercato di coinvolgere Lanci, in quanto nostro rappresentante presso le istituzioni superiori, in modo tale che possano portare avanti la nostra causa. E con altri Comuni, invece, marchigiani, che cosa farete? Stiamo già provvedendo a fare un ricorso assieme agli altri 19 Comuni delle Marche che si trovano nella nostra stessa situazione. C'è una differenza in realtà tra Comuni montani e non? Che cosa cambia? Certo, la tabella ISTAT divide Comuni montani, non montani e parzialmente montani. L'assurdo di questo conteggio è il fatto che, per esempio, la nostra unione di Comuni, che è fatta di quattro Comuni, Saltara, Serungarina e Montemaggiore, noi siamo, dal punto di vista altimetrico, i più alti, ma siamo considerati non montani. Gli altri Comuni, che sono quindi limitrofi al nostro, sono considerati montani, quindi non pagano l'IMU agricola. Com'è andata la produzione dell'olio quest'anno? Ci sono delle difficoltà? Gli imprenditori sono in crisi? È stato veramente un disastro, perché la produzione è calata del 90%, quindi andare a dire quest'anno ai nostri coltivatori diretti che dovranno pagare l'IMU del 2014 e del 2015 è, come dire, massacrare dell'attività. Noi saremo sempre al loro fianco e faremo di tutto per proteggerli.